un caro saluto gente stavo conversando con una mia cara amica attraverso instagram dove ha condiviso una foto di suo figlio che oggi festeggia il compleanno all'asilo e nella foto è seduto su una sedia dove stringe un mappamondo dietro sullo sfondo c'è un altro mappamondo e poi ancora un'altra immagine di un altro mappamondo in questa classe ci sono non so quanti altri mappamondi e lei pubblica la foto perché è il compleanno di suo figlio ha scritto il suo nome e nella foto si legge che questa settimana è la festa a scuola del suo compleanno rispondo con questo commento è un globo lol lol vuol dire ridendo forte e le risponde sì cantano una canzone per il compleanno e i bambini portano in giro il globo attorno al sole così rispondo oh mio dio è una completa programmazione e lei risponde perché è per mostrare che ogni volta che la terra compie un'orbita intera attorno al sole si compie un altro anno io le dico sì capisco ma la terra in realtà non si muove la terra è ferma nessuno ha mai visto la terra in movimento nessuno arriverebbe mai da solo a dire che la terra è in movimento sono gli insegnanti che devono dirti che la terra è in movimento alla tenera età della scuola dell'infanzia usando dei giocattoli divertenti è una programmazione al cento per cento poi le ho inviato questo screenshot preso da google dove ho cercato quanto velocemente la terra orbita intorno al sole e la risposta è 67 mila miglia all'ora pausa vediamo per la seconda volta come cambiano i dati con la semplicissima conversione delle misure 67 mila miglia all'ora ci dà 107 mila 826,5 chilometri all'ora facciamo la stessa ricerca in italiano quanto gira veloce la terra attorno al sole e otteniamo 107 mila chilometri orari ci rubano 806,05 chilometri all'ora andiamo avanti con la lingua inglese praticamente fanno 18 miglia e mezzo al secondo stoppiamo ancora in italiano scrivono quasi 30 chilometri al secondo possiamo dire che ci sta perché 18,5 miglia all'ora corrisponde a 29,77286 chilometri al secondo se facciamo 29,77286 chilometri al secondo per 60 secondi per 60 minuti il risultato è 107 mila 182,297 chilometri orari non corrisponde nemmeno alla prima comparazione fatta se solo in un'ora ci sono queste incongruenze vi rendete conto nei calcoli danni luce che errori madornali di distanza e risultano ok ma andiamo avanti in lingua inglese perché è qui che si insidia l'inganno il problema è che 18,5 miglia al secondo non equivalgono effettivamente a 67.000 miglia all'ora se moltiplichiamo 18,5 miglia al secondo per 60 secondi per ottenere le miglia al minuto e poi moltiplichiamo ancora per 60 per ottenere le miglia all'ora il risultato è 66.600 miglia all'ora hanno nascosto il loro 666 nei numeri quindi le ho scritto 18,5 miglia al secondo moltiplicato per 60 per ottenere le miglia al minuto e moltiplicato nuovamente per 60 per ottenere le miglia all'ora 18,5 per 60 per 60 è uguale a quello che speravo è che facesse i conti da sola e vedesse da sola le 66.600 miglia all'ora e fosse scossa da quel 666 nascosto nei loro calcoli non so se ha mai deciso di fare quei conti perché non ha più risposto a questo messaggio mentre lei risponde quasi sempre a tutto quanto io scrivo diverse ore dopo come vedete dopo 10 ore le scrivo per favore non dormire su quello che ti ho scritto sono molto serio su questa cosa è il tuo momento questo tu e già siete più che pronti lei ha visto questi messaggi ma non ha voluto rispondere lei è abbastanza sveglia lei e suo marito sono amici sono dalla parte giusta credono nelle scie chimiche loro non hanno vaccinato i loro figli non hanno fatto il vaccino c o v i d non sono caduti nella trappola della plandemia hanno il giardino hanno le galline hanno le capre cercano di essere autosufficienti come se fossero veramente delle brave persone e riescono a vedere molte verità sono più sveglie del 99,9 per cento delle persone ma per qualche motivo quando parlo dell'argomento terra piana non riescono proprio a digerirlo semplicemente rimangono in silenzio è l'unica cosa per cui mi ignorano i miei due amici sono una coppia sposata con due figli e ogni volta che porto la terra piana ogni volta che provo a tirare fuori il fatto che il globo non è mai stato dimostrato che nessuno ha mai visto la curvatura che nessuno abbia mai rilevato o misurato il movimento della terra quindi questa foto del figlio dei miei amici è solo una delle foto più orwelliane che io abbia mai visto eppure per una persona è normale per chi crede nel globo è normale non ci vedono niente di sbagliato ma per chi si è tolto le fette di prosciutto dagli occhi e riesce a vedere attraverso le menzogne è la fotografia più orribile che io abbia mai visto nell'intero anno ecco come indottrinano i piccoli fin dalla prima età guardate come lo fanno con le canzoni con i giocattoli con i giochi che collegano al suo compleanno con i viaggi attorno al sole gente dobbiamo proteggere questi bambini dalle menzogne non riusciremo mai a liberarci non sconfiggeremo mai il nemico fin tanto non proteggiamo i nostri figli dalle menzogne dobbiamo crescere la prossima generazione nella verità e dobbiamo proteggerli da tutti i veleni del mondo sapete benissimo che quando nasce un bambino la prima cosa che vogliono fare è iniettargli un'iniezione di vitamina k tossica poi vogliono fargli un'iniezione per l'epatite b tossica poi vogliono circoncidere il bimbo tossico poi vogliono continuare le vaccinazioni e i farmaci e le operazioni del cambio del sesso e gli inibitori della pubertà gente cosa sta succedendo a questi bambini oggi dobbiamo proteggere i bambini gente loro sono il futuro so che è una specie di frase fatta ma immaginate un futuro in cui tutti questi bambini sono solo zombie sottoposti al lavaggio del cervello perché non abbiamo fatto ciò che era necessario fare per proteggerli dalle menzogne vi ricordo di usare il fornito indice alfabetico per fare le vostre ricerche personali scoprire ad esempio perché non si vede la parte bassa degli oggetti cercando sulle voci orizzonte oppure rifrazione e compressione anche a livello micro si vede o la risoluzione angolare ionosfera al posto dei satelliti o troposfera al posto dei satelliti gettate il credo e iniziate a documentarvi non c'è alcuna scuola che vi insegna questo solo voi potete scegliere attraverso il vostro consenso non quello che vi hanno iniettato gli altri